Giornata importante per il mercato in entrata dell'Alma Juventus Fano. Entra a far parte della famiglia Granata il centrocampista Francesco Marianeschi, fino a ieri giocatore del Gubbio. Classe 89 Marianeschi è un mediano che in passato ha vestito la casacca della Lavagnese, Rapallo Bogliasco, San Bonifacese e Virtus Sentella. Il giocatore arriva motivato, tanto da affermare che in questa fase di mercato ha ricevuto tante proposte, ma l'offerta dell'Alma è stata per lui prioritaria e ha definito la società come una delle più importanti del territorio. Dal punto di vista tattico, Marianeschi predilige il ruolo di mezzala sinistra oppure l'esterno di attacco. Su questo aspetto sceglierà il mister, intanto insieme al 26enne si aggrega al gruppo anche Simone De Iori, terzino sinistro, classe 95. Scuola a Sampdoria, fino a dicembre giocatore del Bellaria, nella scorsa annata si è diviso tra Lucchese e Pavia per un totale di 11 presenze.